Subito dichiaro, faccio una dichiarazione, tanto per essere chiari. Io sono contrario, da subito, alla cultura contemporanea. Ebbene, essere chiaro, perché altrimenti non si capisce dove parlo. Per dire questo, vorrei discutere con voi solo quattro vocaboli. Questi quattro vocaboli riguardano la parola, architettura, persona, esperienza. Allora, prima la parola. Tanto è molto strano che Luca Taddio chieda ad un architetto di venire qui, parlare di che cos'è l'architettura e che ti impedisca di far vedere i propri lavori. Lo sto prendendo in giro. Cioè lui obbliga, non è vero obbliga, ti chiede di parlare. Ma guardate che non c'è una grande differenza tra parlare e mostrare un'architettura. In realtà è enorme, perché l'architettura si fa con i pesi quintali di materia. Le parole invece sono tutte a oikos, cioè senza dimora. Le parole sono volatili. Sì, ma le parole sono una cosa molto complicata. E qui introduco un tema che vale per tutte e quattro i vocaboli che vi ho detto prima. Il cosiddetto tema del dualismo. Il dualismo vuol dire che la cultura contemporanea divide tutto, separa tutto, stacca tutto, mentre io invece ricompatto. Che cos'è questo dualismo? Innanzitutto la parola. Ma la parola è un veicolo, è un involucro che contiene, che permette ad un contenuto di viaggiare. Dunque i nostri contenuti, che sono delle immagini in realtà, hanno bisogno degli involucri, delle lettere, per poter attraversare un certo spazio e arrivare a noi. Le parole sono dei veicoli, cioè hanno un involucro esterno e un contenuto. Eh, ma se noi non posizioniamo queste parole su un certo sfondo, che è lo sfondo della cultura, nella quale noi siamo educati, le parole non dicono nulla perché i contenuti cambiano moltissimo. Moltissimo. Tant'è che se io vi dico oggi, che cosa è architettura? Ci sono mille idee, ma di certo non è l'idea di architettura che aveva Vitruvio. Però noi usiamo la stessa parola. Dunque le parole hanno una duplicità, che dovrebbe essere sempre messa, come dire, in relazione. Cioè il loro involucro rispetto al loro contenuto. Per esempio, e qui uso il linguaggio ebraico, nel linguaggio ebraico la prima lettera è l'Alef e poi c'è la Bereshit, la Bet, la B. Sì, l'Alef non si scrive mai. Perché? Perché l'Alef è come dire, è la pressione che noi diamo alla nostra aria perché esca un suono. Dunque quello non si rappresenta. Ma la Bereshit, col quale inizia il Tanake, cioè inizia il Genesi, all'inizio Bereshit, Barah, Elohim e via di seguito, è la bocca. E' una caverna aperta dove escono tutte le parole. E' proprio la bocca, la forma della bocca, la caverna. E naturalmente nel linguaggio ebraico è una C rivolta, una caverna rivolta a destra perché la scrittura è l'opposto, l'andamento della scrittura era l'opposto della nostra. Ma questo è un altro paio di maniche. Voglio solo dire che la seconda lettera con la quale inizia tutta la storia dell'Occidente è una caverna ed è la Bet. Però noi usiamo ancora oggi parole come architettura pensando che l'architettura abbia un significato universale. Ma non è mica vero perché oggi in realtà l'architettura bisognerebbe cancellarla da tutte le università e da tutti, eccetto qualche raro caso, perché bisognerebbe chiamarla oggi solo tettura. Perché l'archè, la parola architettura, adesso introduciamo il secondo vocabolo, architettura, è un termine che si compone di due radici. Tecne e archè. Tecne e archè. Sì, scusate, è facile però dire che cos'è architettura, cioè archè e tecne, cioè sarebbero i cosiddetti principi primi a guida delle tecniche. Sì, ho capito. E cosa sono i principi primi? Grande punto di domanda. Il bello, il vero, il buono? Sì, ma sono concetti molto strani. Però ripetiamo, archè, tecne. Prima è stato detto che la filosofia è un sapere molto importante. Certo, è importantissimo perché l'archè, in archè risuona tutta la filosofia dell'Occidente. E la tecne, invece, è il mondo della presenza delle cose, come dire, delle cose tangibili. Ma c'è un'altra cosa da dire, che è un po' più complicata. Che la parola architettura ha a che fare con due dimensioni del sapere che sono fondamentali. La tecne lavora sulle cose concrete, che tu puoi prendere in mano, puoi misurare, puoi elaborare, fare. Ma archè è quella radice che ti dice che nella parola architettura risuona un sapere che è indominabile. Noi non possiamo dominare né la verità, né la bellezza, né la bontà, né nulla. Noi possiamo solo interpretare questi indominabili. Ho detto gli indominabili, ma agli indominabili c'è da aggiungere altri due vocaboli, che sono i seguenti. La tecne lavora su ciò che è visibile. L'archè lavora su ciò che è invisibile. E gli invisibili, che appartengono agli indominabili, sono molto più potenti del visibile e del dominabile della tecne. Dunque, lasciamo adesso per un momento questa distinzione sull'architettura. E andiamo alla terza parola, che è persona. E voi direte, ma perché adesso introduci questo tema con l'architettura? Tra un po' lo capiremo. Tutti noi, tutti noi, siamo delle persone. E tutti noi siamo delle individualità. Questo tema però dell'individualità è molto ambiguo. Perché nessuno dice che cos'è l'individualità nell'ambito della cultura contemporanea. Ma prima di dire qualcosa su questo, vorrei dire perché noi ci chiamiamo persone. Allora la parola persona viene, come la parola architettura, dal greco. Greco, prosopon. Prosopon vuol dire maschera. Pensate, maschera. Cioè la parola persona ha la struttura analoga a quello che ho detto prima delle parole. Un involucro che contiene un significato, cioè un'immagine. La parola architettura è duplice, architecne. E persona è maschera. Ma maschera ha due parti. La parte esteriore, corpo visibile. E la parte interiore, che è l'interiorità invisibile. Però io adesso vorrei farvi una domanda. Ma secondo voi, chi sarebbe disposto a rinunciare alla propria interiorità? Credo a nessuno. Tutti pensano che la propria interiorità è importantissima. E nessuno la vorrebbe scambiare con un'altra. Però nessuno si rende conto che nella cultura contemporanea l'interiorità individuale è stata, come dire, estratta come gli egizi estraevano il cervello dal naso dei loro morti. Ed è estratta dove? Nel mondo virtuale. Noi siamo, nel mondo contemporaneo, degli scafandri. Questi scafandri all'interno sono vuoti. Perché la nostra interiorità è pensata dentro il sapere tecnico-scientifico che è esterno a noi. Ma perché picchio un po' su questa questione? Ma picchio un po' perché le persone, l'individualità, oggi come oggi, è un tema importantissimo. Perché noi siamo, la faccia esterna della nostra maschera è il nostro apparire, la nostra dimensione minima che abbiamo. Ma la nostra interiorità, ciascuno di noi, o meglio, ciascuno di voi, è un universo. Perché voi potete pensare adesso, intanto potete anche non ascoltare quello che dico, pensate agli affari vostri, e potete pensare all'infinito, alla morte, alla gioia, al creato al mondo, a Walt Disney, quel che volete. Ciascuno di noi ha un'interiorità che è tanto grande, tanto quanto l'universo. E nessuno vuole barattare questa potenza, nessuno. Solo che l'individualità nella cultura contemporanea riduce la dimensione universale della nostra interiorità all'autoreferenzialità. E cioè riduce quella dimensione alla dimensione minima di ciò che è misurabile. La mia altezza, il mio peso, tant'è che la cultura contemporanea non fa altro che per giudicare le cose non sa valutare, sa solo quantificare, cioè misura. Perché misura i nostri corpi, è finito. Più in là di tanto non va. Ma insisto, la persona, la persona, e qui piccola parentesi, ma certo che l'architettura è una disciplina umanistica. Assolutamente, perché l'architettura, anzi scusate, la cultura umanistica vuol dire che il sapere si deve mettere sempre in relazione con le individualità. Ma dell'individualità dobbiamo capire un po' cos'è questo meccanismo dell'individualità. Perché se l'individualità è l'autoreferenza, secondo me, non vale un pistacchio. Ma se invece l'individualità vale la singolarità, vuol dire che noi espandiamo il nostro io interiore alla dimensione del sé che occupa quello spazio infinito che noi già possediamo in quanto tali. e per fare questo adesso passo alla quarta parola che è esperienza. E di nuovo, ma voi, ma chi è che di voi non dice io voglio fare l'esperienza? Certo che ciascuno di noi vuole fare la propria esperienza e vuole fare i propri errori. E nessuno vi costringerà a fare qualcosa che voi non volete. perché tutti noi vogliamo fare la nostra esperienza. E tra l'altro, tra l'altro, noi siamo al mondo non perché dobbiamo fare le esperienze degli altri, ma noi siamo al mondo perché dobbiamo portare l'esperienza nostra del mondo, di un mondo, di un mondo. Non dell'autoreferenzialità, ma di un mondo. Dunque, l'esperienza è un concetto molto importante che però oggi nella cultura contemporanea è stato azzerato totalmente. Perché? Perché appunto chi pensa per noi oggi è tecnica, scienza, tecnica più scienza, virtuale, dunque, noi tutti abbiamo il tablet, i telefonini, quando abbiamo bisogno di un'informazione la peschiamo immediatamente, la usiamo, finito, stop, cioè la memoria sta fuori di noi. Ma non facciamo esperienza, perché esperienza, altra parola greca, è ex peras, 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 è il limite. Vuol dire che per fare esperienza noi dobbiamo spostare il nostro limite interiore dalla dimensione dell'io nostro sempre di più verso quella dimensione che ci appartiene da sempre, che è la dimensione degli universali. ma guardate che gli universali sono l'ambito anche degli indominabili che abbiamo incontrato in architettura, archè. Cioè anche noi persone vogliamo fare delle esperienze che devono avere la propria archè. E quando si fa architettura bisognerebbe fare tre progetti contemporaneamente, perché si deve pensare prima all'archè dell'architettura. Si deve pensare contemporaneamente all'archè della propria non individualità ma singolarità e terzo c'è l'archè della tecnè, della tecnica. Perché la tecnica è quel sapere che deve dare risposte alle necessità quotidiane. Ma l'archè è quell'asse verticale attorno al quale ruota tutto. E dunque quello che si sta mettendo in gioco con questo ragionamento è che non c'è opera in architettura, che non sia un'opera singolare, perché noi, la nostra individualità è una singolarità. Tutte le opere dovrebbero essere singolari, perché? Perché la singolarità vuol dire mettere insieme due opposti la particolarità di quel tempo, di quel luogo, di quel progetto, con l'universalità che converge in quel progetto. Quella è la singolarità. Vuol dire che l'architettura come suo ideale dovrebbe sempre produrre delle opere che sono opere che poi noi chiamiamo d'arte, capolavori. E per fare questi capolavori che nessuno può predire fin dall'inizio, certo, mi piacerebbe dire io progetto capolavori, ehi bravo, cosa vuoi progettare? Sarà la storia che dirà poi, forse, ma almeno avere come dire la tensione, avere la tensione, avere la direzione è molto importante. e voglio, sto per finire, ma quello che voglio solo dire è che intanto bene capire che noi siamo nel mezzo di due ambiti, quello dei dominabili e degli indominabili, e che non siamo noi a dominare l'architettura, è l'architettura che chiama noi e noi dobbiamo prepararci per arrivare al livello che chiede architettura. Dunque, l'architettura ha in sé una sorta di legge tra virgolette che noi dobbiamo perseguire ma che è anche la nostra legge perché anche noi abbiamo un archè. E volete un esempio della relazione tra quello che può essere l'archè, la legge dell'architettura e la, come si chiama, la libertà che ciascuno di noi vuole, desidera? Voi pensate che la legge sia in contraddizione con le libertà neanche morti. Se voi guardate una partita di calcio o qualsiasi cosa il campo da calcio è sempre quello. Qua le stesse dimensioni, la porta è quella lì, 11 giocatori, non 100.000. Eppure in quel vincolo, in quella legge così precisa, così semplice, così banale, ehi, si sviluppa infinitamente della libertà. Qualsiasi gioco si fonda tra due estremi, libertà e legge. Noi siamo tra una faccia esterna e una faccia interna. La faccia interiore è universale, la faccia esteriore è individuale. L'architettura è la stessa cosa. Ma per giungere a questo, c'è un'altra parolina che non ho detto prima e adesso ve la introduco ed era la quinta che è la seguente. C'è questo autore francese Bataille che scrive a proposito della depan. Depan vuol dire dispendio. Per accedere all'architettura, all'arte, ma a qualsiasi arte, letteratura, filosofia, ma anche se volete fare il calzolaio, anche il panettiere, non c'entra nulla. Qualsiasi opera richiederebbe all'uomo il dispendio. Cioè, tu devi mettere in gioco non solo tutto te stesso, ma qualcosa di più per poter fare quell'opera. Perché quell'opera non ti appartiene. perché tu sei stato chiamato dall'architettura per fare quello. Dunque, l'architettura è un dono che ti fa chiamandoti e tu devi rispondere a quel dono con una sorta di sacrificio. Questo sacrificio è la depan, cioè il dispendio. E se volete un racconto che è un mito, spiega esattamente questo. Ed è il mito di Orfeo. Penso che tutti conoscete la storia di Orfeo di Euridice. Orfeo perde l'amante, lui è un cantore straordinario, deve commuovere gli dèi per ricevere il permesso per andare all'Ade per prendere la sua amata e portarla di ritorno, però gli dicono non girarli perché sennò perdi tutto, lui si gira, perde tutto. Sì, come lui fosse uno sprovveduto, era un dio anche lui, sapeva tutto, sapeva tutto però poi è stato sbranato anche lui. Ma qual è il senso del mito? A parte che i miti sono storie che hanno sempre lo stesso valore e portano continuamente la verità delle cose. Intanto Orfeo è l'architetto o ciascuno di noi. Ma siccome parliamo di architettura diciamo che siamo architetti. Orfeo è l'architetto e Euridice è l'architettura o l'arte. Orfeo per accedere all'architettura deve produrre lui delle opere, il suo canto, il suo suono, per commuovere gli dei, per commuovere gli indominabili. Commuovendo un po' questi indominabili, cioè rappresentando, perché noi non possiamo dominare gli indominabili, possiamo solo rappresentare la rappresentazione ha a che fare con il mondo, con questo mondo degli indominabili. Lui riesce a ricevere questo permesso che gli consente di fare il viaggio agli inferi. Orfeo scende agli inferi, vede Euridice che è bendata nel sudario, non la vede neanche in faccia, è tutta bendata. se la porta presso e quando è sulla soglia si girano e sparisce tutto. Euridice è l'arte, è l'opera. Tu non puoi pensare di catturare l'opera e portartela con te, neanche se vuoi, perché è un indominabile l'opera. A te però è concesso, ecco la depan, ecco il dispendio, di fare questo viaggio rischioso che è il viaggio della tua vita nell'opera perché solo andando e tornando hai l'esperienza non che ti cambia ma che ti approfondisce e che espande il tuo io verso la tua dimensione divina. Cosa vuol dire divino? Divino è una mica che non ha nulla a che vedere col religioso. Divino è quella dimensione degli universali che appartiene a noi, che abbiamo da sempre e che sta al fondo anche della parola archè di architettura. Noi siamo coloro i quali dovremo impegnarci affinché le cose che noi facciamo siano a quel livello. E guardate che nella facoltà sull'ingresso della facoltà di architettura di Venezia c'è scritto nel portale d'ingresso il Verum Ipsum Factum di Vico Giovanni Battista Vico filosofo napoletano sì è scritto Verum Ipsum Factum e per Vico questo Verum Ipsum Factum voleva dire che le cose autentiche stanno nell'ambito metafisico chiamava i punti metafisici e quei punti per Vico sono tridimensionali mentre le nostre opere che noi costruiamo qui sono sempre pensate un po' bidimensionali perché sono l'ombra di quei punti tridimensionali detto questo Aldo Rossi che è stato un architettura che io non ho mai amato in vita ma dopo che è morto l'ho amato sempre di più perché quando si è non sempre si capiscono le cose e io per capire le cose ci ho messo anni 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 ma poi alla fine le ho capite anch'io ma lui diceva una cosa molto interessante sull'architettura l'architettura sta tra la magia e la felicità e ho capito io però lui diceva guardate che i moderni si sono soffermati sui piani intermedi senza aver mai capito che all'inizio c'è la magia e in fondo c'è la felicità sì quello che vi ho detto è che una delle una delle strade che noi possiamo percorrere è proprio quella di comprendere che noi siamo delle individualità che saremmo tese verso la singolarità e non l'autoreferenzialità che il nostro ambito culturale non può essere come dire ambiguo ma deve avere come orizzonte almeno tutto il sapere occidentale occidentale tutto e dunque la filosofia la letteratura la poesia la musica teologia tutto quello che volete che le parole devono essere ripensate radicalmente perché io potrei dirvi che io vorrei fare e faccio un'architettura teologica teologica certo perché qui la teologia all'interno della tradizione greco-cristiana vuol dire quello che noi tutti sappiamo ma gli tseoi originariamente erano coloro sono coloro i quali che guardano guardano dall'insolito verso il solito cioè vedono il mondo il cosmo tutto intero tutto nella loro nella loro rete nella loro relazione ma vedono anche le cose che sono separate distinte tra di loro dunque la parola teologia è la parola più nobile dell'estetico non dell'estetica ma dell'estetico che è l'apparire di tutte le cose e noi non facciamo altro e anzi e noi non possiamo superare l'estetico neanche nei nostri sogni perché i sogni nessuno li vede ma noi li possiamo vedere nessuno nessun altro di noi può vedere i nostri sogni ma noi li vediamo e anche il pensiero più astratto è un'immagine che appare dunque l'architettura è una disciplina che fa tremare i polsi ma è la disciplina la più bella al mondo perché mette in gioco due cose fondamentali mette in gioco la nostra esperienza e la nostra universalità che è singolarità contemporaneamente alla singolarità di architettura certo che per fare questo dobbiamo mettere in gioco il dispendio e noi siamo chiamati dall'architettura dunque l'architettura non dipende da noi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti